La settimana più difficile per Massimo Rastelli e Lavellino si conclude con la terza vittoria in quattro partite e l'aggancio ai play-off. Mica male considerando la lunga lista degli indisponibili tra Garetto che si ferma per influenza, Russo che va in panchina per lo stesso motivo, Casarini affaticato e anche chi scende in campo, vedi Trotta, Tito e Pane, non è al top della condizione. Eppure basta un gol di Gambale, il terzo di testa in questo campionato a mettere K1 a volenterosa ma mai davvero pericolosa Fidelis Andria. Classico 4-3-3 per Lavellino con la novità Franco e Murano 4-3-1-2 per la squadra dell'ex Dudu. Il primo tempo non offre grandi emozioni e le grida risuonano forti tra le porte chiuse del partenero Lombardi dopo la decisione del giudice sportivo per gli incidenti di Foggia. L'Andria si fa vedere nell'area dei bianco-verdi senza essere mai realmente pungente, poi arriva qualche sussulto offerto prima da Murano e poi da Trotta fino al gol. Siamo al 36esimo, palo di uno dei migliori in campo ovvero Franco. Sulla respinta ci pensa Gambale di testa in posizione di sospetto fuorigioco a mettere la palla dentro e esultare non sotto la curva vuota ma si consola con l'abbraccio dei compagni. L'Andria accusa il colpo e Lavellino ossiora anche il raddoppio con Moretti, sempre più leader della difesa, dimostrando solidità e concretezza nonostante le avversità. Nella ripresa l'assist di Tito per Trotta e di quelli al bacio ma il rasoterra viene bloccato da Savigli. Sul capovolgimento di fronte Persichini costringe pane sempre impeccabile agli straordinari mentre Gambale in aria spara addosso al portiere avversario anziché in porta. Massimo Rastelli che non ha tantissime alternative cambia inserendo prima Zanandrea e poi Lianes e passando al 3-5-2. La squadra pugliese aumenta la pressione e al 92esimo tenta il tutto per tutto con Mercurio che però spara alle stelle. Alla fine i lupi festeggiano seppure nel vuoto assoluto e si godono il quarto risultato utile consecutivo, il nono posto. Nella logica rastelliana però di andare avanti un passo alla volta senza perdere mai di vista l'obiettivo e puntandolo con equilibrio e determinazione. Nella logica rastelliana è un'altra cosa.